Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, intervistato dal giornale di Sicilia, appalato del mercato rosanero. Abbiamo un budget da investire ma dobbiamo vedere cosa offre il mercato a noi, bisogna vedere se ci sono giocatori liberi e se vogliono venire a Palermo, dice, con la testa giusta. Foschi sta lavorando con calma perché non abbiamo nessuna fretta. Il mercato ha dei tempi fisiologici e la fretta induce solo all'errore. Foschi lavora con calma, si guarda attorno per capire cosa può essere utile alla nostra squadra. E comunque bisogna avere pazienza, sottolinea Zamparini che poi prosegue. Io mi ricordo la Fiorentina cinque anni fa, sono andati in ritiro in sette, alla fine del campionato sono arrivati quinti, ci vuole calma, le squadre si costruiscono con il tempo. Non abbiamo una base su cui lavorare, abbiamo un telaio, qui vanno aggiunti nuovi innesti, devono essere acquisti mirati che realmente possono essere utili. Zamparini nel corso dell'intervista ha anche ammesso di aver bloccato gli acquisti di Cigarini e del Caduri perché costavano troppo e avevano un ingaggio non alla portata delle casse rosanero.